In occasione di Azzurro Food, manifestazione enogastronomica per la valorizzazione del pesce azzurro, giunta alla quinta edizione, il comune di Sciacca, attraverso il suo sindaco Francesca Valenti e il direttore del Dipartimento Pesca Mediterranea Dario Cartabellotta, hanno firmato la convenzione Flag Fishery Local Action Group, che porterà finanziamenti per un valore di 2,1 milioni di euro al comparto della pesca di tutto il territorio che va da Sciacca a Menfi, Real Monte, Campobello di Mazzara e Portempedocle, il cosiddetto GAC, gruppi di azione costiera nati per attuare il pieno di sviluppo locale, con un bando del Fondo Europeo per gli affari marittimi e per la pesca. Due i progetti che saranno finanziati e che renderanno i pescatori complici nella pulizia del mare e nella beneficenza. Il primo riguarda l'azione di recupero dei rifiuti dal mare, attraverso l'azione proprio dei pescatori, in modo che la plastica che resta nelle reti con la pesca a strascico non venga ributtata ma conferita nell'isola ecologica, realizzata dal comune dietro una premialità. L'altro progetto invece vede insieme i pescatori e il banco alimentare, in modo che tutto il pesce che non viene utilizzato per la vendita, perché privo di valore commerciale, non venga ributtato in mare ma trasformato e dato in beneficenza. Inoltre il mercato ittico di Sciacca è stato oggetto di un altro finanziamento, annunciato proprio nel corso di Azzurro Food, pari a 620.000 euro, grazie ad un bando compartecipato dal comune di Sciacca per la misura 1,43 per la riqualificazione del mercato ittico. E' il patto per lo sviluppo delle aree corsiere, definito in inglese Flag, Fisher and Local Action Group, quindi una serie di risorse che agevoleranno l'economia marinale, la trasformazione, la commercializzazione, anche l'infrastruttura e insieme la riqualificazione del mercato ittico di Sciacca. Una cosa importante perché non possiamo pensare allo sviluppo della marineria se non si pensa al valore aggiunto del pescatore. La manifestazione è nata da una scommessa, siamo giovanissimi organizzatori, operatori dello spettacolo e di eventi sul territorio, abbiamo voluto coniugare la possibilità di organizzare un evento che unisse la promozione di un'eccellenza del territorio, che è quella del pescato, con la possibilità di creare degli eventi, degli spettacoli che attirassero la gente, che fossero capaci di generare un coming turistico e intrattenimento per le persone che si trovano qui sul territorio. È la quinta edizione, ci siamo riusciti, è una scommessa vinta perché è da cinque anni che anno dopo anno creiamo un successo grazie alle collaborazioni con lo chef Natale Giunta, tantissimi chef ospiti in queste edizioni nelle passate, ma anche in quella attuale, questa sera è in corso il cooking show con il vincitore di Masterchef Simone Scipioni. Quindi la manifestazione è nata con questa idea e oggi è arrivata questa realizzazione. Risultati e la soddisfazione di vedere ogni sera tantissima gente che viene a trovarci, che gusta il pesce azzurro di Sciacca, che è un'eccellenza che va tutelata, protetta e valorizzata. E questo oltre ad essere un risultato aggiunto è sempre continuo ad essere il nostro obiettivo per migliorare in questa direzione.